Il paesaggio come cuore dell'esistenza e dell'attività produttiva dell'uomo. Un paesaggio che evolve, si trasforma, vive. Per celebrare questa commistione Bergamo ospita dal 2 al 4 settembre il meeting internazionale dedicato al paesaggio. 12 esperti di fama mondiale porteranno in città le loro esperienze di architettura del paesaggio, le eccellenze di progetti territoriali, il tutto in tre giorni di workshop e seminari di confronto su diverse tematiche legate alla bellezza della natura e dell'ambiente nella splendida cornice del Teatro Sociale di Città Alta. Vogliamo significare ancora di più il valore del verde, del paesaggio per la nostra città. Si deve promuovere una cultura nuova su quello che è il paesaggio. Oggi ci sono ancora interventi che arriccano più un danno al paesaggio, quindi questo vuole proprio significare questa attenzione. La green philosophy del meeting continua fino all'11 settembre. Città Alta sarà protagonista con un evento suggestivo. Piazza Vecchia sarà trasformata in un tappeto verde di piante e fiori con luci e suoni e componenti di design che ne faranno un vero e proprio giardino sensoriale capace di stupire i visitatori. È una chicca, un centro storico, una piazza tra le più belle d'Italia. E trasformarla da una pavimentazione in grassa in una pavimentazione tutta verde è una grande provocazione. A coronamento dell'evento il portico del Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia farà da cornici alla serata di gala, sabato 3 settembre, tra arte, fotografia, alta gastronomia e tante bollicine Franciacorta. Da anni Bella Vista si collega all'architettura del verde proprio per quanto riguarda la vigna che disegna il paesaggio e quindi abbiamo deciso di iniziare a comunicare i nostri vini anche sotto questo aspetto.